Civil Week 2024, la tua impronta sul quartiere. Ci troviamo in compagnia di... Anna Pasotti, del gruppo di privati cittadini di quella che chiamiamo Via Chiaripino, che in realtà è un insieme di tre vie. Quali sono queste vie? Via Chiaripino, Via Jacopino da Tradate e Via Iraghi. Perché ci troviamo tra Villa Pizzone e La Cagnola. Giusto? Esattamente, sì. Per questa iniziativa, cosa avete organizzato? Allora, abbiamo organizzato un'opera d'arte collettiva. L'idea è che chiunque della zona o che passi di qui possa partecipare. Abbiamo creato le sagome degli alberi e dell'erba, su cui ognuno può lasciare la propria impronta colorata e ognuno lascia quindi un piccolo pezzo, ma poi alla fine abbiamo un insieme di alberi fioriti e abbiamo creato bellezza tutti insieme. Per creare un senso di comunità e avvicinare un po' tutti i cittadini. Vedo che ci sono bambini, persone più grandi. È il primo anno che partecipate alla Civil Week? Sì, è il primo anno che partecipiamo alla Civil Week. Abbiamo fatto un evento di polizia del quartiere qualche mese fa e poi abbiamo deciso di appoggiarci alla Civil Week per riuscire a creare un altro evento un po' più, tra virgolette, grande, anche se in realtà siamo qui e siamo piccolini. Come sta andando questo evento? Vede la partecipazione degli abitanti? Si stanno avvicinando un po' al vostro progetto? Sono un po' intimoriti da questa iniziativa che vede coinvolgere un po' la comunità? Allora, direi così e così. Poche persone sono venute perché lo sapevano, più che altro stiamo attirando passanti. Nella maggior parte quasi tutti si fermano di tutte le età. Abbiamo avuto coppie anziane e bambini molto molto piccoli, persone che non parlano italiano. È un evento che può far partecipare chiunque e questo è il bello. Qualcuno è stato un po' diffidente, ma ci sta anche questo. Quindi direi che in generale siamo per ora molto soddisfatti. Abbiamo appena iniziato, siamo ancora da mezz'ora. Perfetto. Allora, continuiamo l'inizio e continueremo la giornata con questa bellissima iniziativa nella speranza che arrivino più persone possibili, che rendano unito, più coeso questo gruppo di cittadini, queste vie. Grazie, esatto. Noi siamo qua fino a luna. Grazie. Vi aspettiamo numerosi e buona Sibili Week a tutti. Grazie.